Wow, 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 tu, 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 wow, wow Ciao a tutti i ricarni, benvenuti oggi in un nuovo video Tra poco, cioè dopo domani, è pasquetta Quindi mi sono detto perché non fare un video su tutto quello che mi capita E su tutto quello che sta accadendo e che capita a ogni persona in questo periodo E quindi l'ho fatto E vi lascio subito al video Andiamo a Pasquetta Guardi un grigliata Ho Pasquetta Rimani in me la casa Tante che ho Io come etilico Ma chi ha portato la fornacella? Oh raga, io studio Sapete quale fu la prima cosa che gli apostoli chiesero a Gesù appena risorto? Che fai a Pasquetta? Cosa hai trovato nell'uovo di Pasqua? Un ombrello per Pasquetta Se ti delude una volta è falso Se ti delude tante volte è strozzo Se ti delude sempre O meteo Pasquetta Previsioni meteo andando verso Pasquetta 4 giorni prima di Pasquetta c'è il sole 3 giorni prima è nuvoloso 2 giorni prima c'è il temporale 3 giorni stessa c'è sta la vocalizia per il meteorito Sono pronta per questi venticatori C'è il sole Ma vaffanculo Mamma vedi che sono pronto vado Mamma ma dove vai? Entri dico cosa la manca Certo mamma ma che cosa la roba? Ma non mi stai spaghetta di ieri Mamma ma che boccogine? Ma che boccogine? Come boccogine? Che giocca di boccogine? Ma che boccogine? C'è la mia artigienica Siete un'innocente Non puoi poter pulire Ma che te ne vieni? C'è la mia artigienica C'è la mia artigienica Sono un bicchierino Non voglio proprio esagerare Non mi sembra il caso Tieni un pochino Ma guarda un pochino Chi sta tu bevi tu E chi sta me bevi io Ma giù prove tecniche per Pasquetta Perfetto Dopo il pranzo di Pasqua E il mega picnic di Pasquetta Mi sento come la pietra del sepolcro Brotolo E questo era Io di sicuro non sono quello che subriaglia Cioè no Ma proprio io Ma proprio no Cioè io che mi ubriaco Ma che sai di ma Io Sì Io mi ubriaco come Poi non sono nemmeno quello che la mamma Gli dà tutto quello che è rimasto a Pasqua Tutti i residui di cibo Di tutta la settimana Cioè no Ma per favore In realtà sì E non sono nemmeno il meteoropatico Quello che sdrammatizza In realtà In realtà è stata fia per culo ragazzi Sono tutti quanti Nel mio gruppo ci siamo tutti Quindi fatemi sapere voi in quale vi siete riconosciuti Qui sotto nei commenti E se il video vi è piaciuto E passiamo adesso ai saluti E saluto Alessia Ciao Poi saluto Trattino basso It's Trattino basso Franci E infine saluto Fede.Pieralisi Ciao a tutti E se volete essere salutati Nel prossimo video di Youtube Seguitemi su Instagram Come hanno fatto queste ragazze Che poi le ho scelte Quindi non mi fate ripeto Sempre le stesse cose Seguitemi su Instagram E mi raccomando Iscrivetevi al canale Se non vi siete iscritti Perché so dove abitate E se non lo farete Verrò a cagare alcobanani Sulle vostre case E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao